Questa mattina in conferenza stampa ha sollevato una problematica che riguarda gli sfratti che si stanno eseguendo in città nelle ultime settimane con delle persone, delle famiglie che rischiano di rimanere senza casa, di andare per strada. Voi sapete che da sempre, sottoscritto unitamente al collega Berardino Fiorilli, ci occupiamo di sociale a 360 gradi e abbiamo, come dire, convocato una conferenza stampa appunto per sottolineare un momento storico che si sta verificando, cioè che noi stiamo ricevendo come amministratori comunali decine e decine di persone al giorno che ci portano gli atti giudiziari di sfratto. Chiaro, gli sfratti sono bloccati ma le procedure amministrative vanno avanti, per cui quando ci sarà lo sblocco degli affitti queste persone rimarranno a piedi con una previsione negativa perché ovviamente i proprietari in maniera legittima vogliono essere pagati da persone che però sono in cassa integrazione e che non ricevono ovviamente la cassa integrazione dallo Stato. Per cui un problema che io temo molto di carattere sociale è che l'amministrazione comunale si deve far garante nei confronti di queste persone, soprattutto coinvolgendo la Regione Abruzzo che è l'ente superiore per dare un contributo, qualcosa che possa farle ripartire. Anche che c'è anche il problema che queste persone ovviamente rimangono per strada, vanno alla ricerca di altri appartamenti ma senza le credenziali, cioè la famosa pusta paga, giustamente i proprietari non si fidano ad affittare gli appartamenti. Le case popolari languono, la gradatoria è in difficoltà che stanno esaminando i ricorsi che sono decine e decine sulla gradatoria quindi la situazione è per il momento congelata ma tendente all'esplosione. Oggi è importante fare un monito perché se è vero che c'è una proroga, quindi una sospensione dell'esecutività degli sfratti di fatto al 30 giugno, il problema esploderà immediatamente il giorno dopo e quindi è giusto pensarci da oggi e non ricordarci all'ultimo momento. È un po' come è avvenuto per il blocco dei licenziamenti, si sospende il problema ma non si risolve. Questo significa che oggi ci dobbiamo preoccupare come amministrazione comunale perché chiaramente le competenze sono di tipo governativo in larga parte però è vero che poi il cittadino viene in comune a protestare e a chiedere il primo aiuto. Allora come amministrazione comunale dobbiamo fare tutto il possibile ma soprattutto sollevare il problema perché altrimenti ci ritroveremo che a giugno, a fine giugno, questo problema esploderà improvvisamente non sapremo come farvi fronte. Oggi è importante pensarci per tempo e sicuramente vanno cercate soluzioni tampone che possano quantomeno soddisfare gli inquilini ma anche i proprietari di casa che legittimamente hanno diritto all'affitto ma questo circolo vizioso che purtroppo ha creato il Covid nell'economia rischia di fare tutti scontenti creando grossissimi problemi di carattere sociale.